Siamo qua, è la presentazione della nuova campagna pubblicitaria e promozionale della Coca-Cola. Andiamo a vedere insieme. In che momento del giorno tu bevi la Coca-Cola? Beh, io sicuramente d'estate sempre. Ed è una bevanda che veramente ti mette tanta allegria e ti dà soddisfazione, insomma. A pranzo. Io sempre, io ci faccio anche colazione. Direi non la mattina, ecco. Mi piace la sera perché c'ha quella dolce cosa che ti lascia un pochino più sveglia, più frizzante per dopo la serata. Pizza è Coca-Cola. Certo, è certo. Alex Barone, Irene Grandi, Marina Ray, i gimelli diversi, Paula Turci, Biruta su Cuba. Cosa c'entrano con Coca-Cola? Se giri il mondo in cerca di qualcosa, se ci pensi, usa solo i sensi. Se giri il mondo in cerca di qualcosa, che ti inventi, usa solo i sensi. Come ti senti da avere, essere scelta per cantare un jingle di Coca-Cola? Beh, è divertente perché comunque la Coca-Cola ha sempre fatto delle belle pubblicità, molto vicine anche alla musica, spesso con delle belle melodie. No, sparisci, non chiedere queste cose, non si può. Parlando 2006.